Io sento un gran colpo, mi pensavo che fosse la macchina a cioppare una gomma e dopo sento una gran frenata e basta. Travolta e trascinata per 150 metri sull'asfalto nel cuore della notte, Miriam Ciobano, questa bellissima ragazza di appena 22 anni, Diona di Fonte, era a piedi lungo via Vittorio Veneto a Pieve del Grappa, quando è stata presa in pieno da un Audi guidata da un ragazzo poco più che suo coetaneo. L'impatto è stato talmente forte da rendere irriconoscibile il corpo di Miriam, letteralmente fatto a pezzi da quell'auto a cui forse la ragazza aveva cercato di chiedere un passaggio. Così ha detto suo padre che se ha visto la ragazza veniva fuori dal campo, ma non so. Quindi ha attraversato questo campo qui? Beh, voglia di venire fuori per fermare il ragazzo per dare un passaggio, non si sa. Diversi i testimoni accorsi dopo il botto, tra questi c'è Walter Reginato. Queste sono le parole che il 23enne, l'investitore, avrebbe detto al papà, accorso poco dopo lo schianto. La ragazza è sbucata dai campi, dirà, non l'ho vista, me la sono ritrovata davanti. L'ho sentito, pensavo di aver preso una bestia o qualcosa, perché sono sbucata, io non ho visto niente, me la sono trovata in mezzo, piangeva, era in fondo che piangeva. La scena che si presenta agli occhi dei soccorritori, forze dell'ordine, era capricciante. Il silenzio rotto dal buato dell'auto, che ora è sotto sequestro, e il pianto del 23enne. Il giovane viene portato in ospedale sotto shock. I risultati degli esami effettuati nell'immediato dai carabinieri di Castelfranco Veneto, sotto la direzione della procura della Repubblica di Treviso, riveleranno che stava guidando sotto l'effetto di alcol e droga. Per questo è stato arrestato in flagranza con l'accusa di omicidio stradale aggravato. Si corre su questa strada? Ha fatto dieci morti fino adesso. Due famiglie distrutte in una manciata di secondi, quella di Miriam, che oggi non c'è più, e quella di un giovane, ora in carcere, che dovrà fare i conti con la tragedia che ha causato.